Questo è il figlio di Filippo, il professore, ve lo ricordate? Uno dei buoni. Allora sarà soddisfatto di quello che è successo. Digglielo, e diglielo. Voglio vedere che faccia fa, voglio proprio godermela. Diggli che è successo. È meglio che andiamo. Digglielo. Papala, papala. Hanno messo l'odice in prigione. Ma non ti fregna, ce va. Sì, l'hanno messo dentro come un lato. Lui, quello che ha fatto l'impero. Vedete quello che succederà adesso? Vent'anni di gloria rovinati in un giorno, in un'ora. Fesso lui, o duce, fesso che non mi ha fatto fuori prima. Con voi non ci vuole la ragione, per voi ci vuole questa, questa ci vuole. Mamma! Metti giù quell'arma, oh! Lasciate perdere, segretà. Ci pensaranno i tedeschi a sistemare tutto. Andiamo. Allora è proprio vero. Se è vero, posso morire contenta.